Continuano i disagi legati alla mancata pulizia del portocanale di Mazzara del Vallo. Siamo qui oggi al cantiere Mecanav per parlarne con l'amministratore delegato Nadia Asaro. Buongiorno Nadia. Quali sono state le maggiori problematiche che la vostra azienda ha dovuto affrontare visto il mancato procedere di questi lavori e i problemi che il fiume ha dato? Purtroppo noi ci troviamo nella posizione di avere da agosto una serie di richieste per l'alaggio e la lavorazione di tutti i pescherecci che rientreranno per il fermo biologico. Poi da settembre, ottobre rientreranno tutte le imbarcazioni da diporto per il rimessaggio invernale e noi a queste richieste di lavoro non possiamo rispondere in maniera positiva perché le imbarcazioni di un certo tipo, di una certa stazza o semplicemente con un certo pescaggio non possono materialmente entrare nel canale e approdare la nostra darsena essendo il fiume completamente intasato dai fanghi. Noi abbiamo molto investito per raggiungere un buon livello di competitività con gli altri cantieri essendo tra l'altro gli unici in provincia di fatto e però nonostante il nostro impegno, il nostro investimento, le risorse che abbiamo investito ci troviamo a essere completamente bloccati dalla negligenza, dall'assoluta assenza dell'amministrazione non solo quella comunale ma quella regionale soprattutto che con la propria assenza, devo dire, ha completamente messo in ginocchio l'azienda nostra che non è solo la nostra ma che è capofiliera di tutta una serie di officine e attività collaterali che con noi collaborano perché ci sono i saldatori, ci sono le officine meccaniche ci sono tutta una serie di altre attività che fanno parte dell'indotto e che si trovano, anch'esse in gravi difficoltà, non avendo più imbarcazioni su cui poter operare. Fra gli investimenti da voi effettuati quanti in materia di sicurezza? Tanti, tra l'altro proprio in questo momento stiamo svolgendo un grosso progetto per la messa in sicurezza di tutta la parte elettrica del cantiere con un esborso di diverse decine di migliaia di euro per dire i macchinari che abbiamo sono all'avanguardia e unici in tutta la Sicilia perché noi abbiamo un travel lift che ha una portata di 430 tonnellate che è una risorsa enorme essendo tra l'altro l'unico in Sicilia e però una barca di tale stazza non può mai attraversare il canale in queste condizioni quindi noi abbiamo un'enorme risorsa che però rimane inutilizzata con una mancanza di guadagno enorme per noi pur avendo la richiesta e pur avendo la possibilità a livello professionale di rispondere a tale richiesta. Avete avuto degli incontri con la Capitaneria di Porto e che cosa è emerso? Della Capitaneria di Porto poco, nel senso che la Capitaneria è un organo di controllo e di polizia per cui l'unica sua funzione è quella di vigilare sul buon andamento del porto non è chiamato in causa per quello che è la situazione del porto perché non è ovviamente sua competenza competente è la Regione e a seguire il demanio la Regione è stata assolutamente negligente assolutamente assente nella gestione della problematica del canale problematica che non è emersa ora ma che è decennale perché un canale che attraversa la città come quello del fiume Mazzaro dovrebbe essere costantemente sottoposto a manutenzione pulizia dragaggio e quant'altro anche perché non solo per una questione nostra cantieristica ma anche per uno sviluppo all'interno della città è un fiume che attraversa la città e sul quale si potrebbero sviluppare decine e decine di attività si sono aperte con mia grande gioia diverse attività enogastronomiche sul lungo Mazzaro che però io non so quanta vita possono avere è un punto interrogativo non per l'attività in sé ma perché il canale di fatto è assolutamente abbandonato a se stesso non c'è nessun sviluppo in tal senso né a livello turistico né a livello commerciale per cui le attività che lì sorgono sorgono con un grosso rischio già con un handicap alla base quando invece una città come la nostra come dimostrano tanti altri tante altre città in Europa possono benissimo vivere sul fiume stesso con le risorse che il fiume stesso presenta e offre Ad oggi quindi le risorse ittiche di Mazzara del Vallo sono ancora ristrette a lumicino visto che la pesca è da anni che soffre di questi problemi La pesca è un settore oramai sofferente questo oramai l'abbiamo appurato si fanno le demolizioni al posto delle costruzioni il mondo è andato a rovescio questo è andato di fatto oramai è un un percorso che non è più reversibile per lo stato dei fatti si può solo tamponare l'emergenza e cercare di fare sopravvivere le ditte che ancora operano e lavorano nel settore di fronte a una situazione del genere necessaria per la sopravvivenza di un'intera città è la riconversione delle risorse e quindi a questo punto il turismo ittico è una offerta per tutte le imbarcazioni da diporto insomma tutta una serie di attività sempre riguardanti la pesca ma che comunque differenzino il settore offrano altre possibilità di vita per le ditte di offerta per i turisti di benessere per la città intera questa lungimiranza non c'è stata noi devo dire lo abbiamo fatto siamo stati pionieri in questo senso tant'è che abbiamo diversificato il ramo di lavorazione abbiamo un settore dedicato esclusivamente ai pescherecci un altro settore dedicato esclusivamente alla nautica da diporto con sia barca motore che barca vela un settore che va molto bene devo dire perché la richiesta c'è e questo il settore che in questo momento ci sta dando il respiro visto la difficoltà del comparto pesca e però è un settore che ha bisogno di tutta una serie di servizi corollari quindi servizi di trasporto quali navette servizi sul molo come colonnine di energia elettrica acqua potabile quant'altro attività commerciali infrastrutture tutta una serie di servizi che a Mazzara mancano quindi vengono grossi armatori anche con grossi yacht noi abbiamo yacht di diverse decine di metri però purtroppo si limitano per esempio al rimessaggio invernale non possono utilizzare Mazzara come base per il loro periodo di ferie di vacanze di quello che è perché a Mazzara mancano le strutture adeguate per rispondere ai turisti per cui loro portano la barca fanno il lavoro da noi dopodiché salutano e se ne vanno non rimangono come risorsa per la città nessun altro a parte noi ne può ricavare un beneficio sono arrivati dei segnali dall'amministrazione comunale di recente no nessuno l'amministrazione comunale si è dichiarata sin dal primo momento spettatore per quanto riguarda la gestione del canale e come tale continua a comportarsi in realtà è così il comune non ha nessuna competenza e nessun obbligo in merito e nessun compito perché il progetto è stato affidato al commissario straordinario delegato l'ingegnere Foti al quale spetta l'attuazione del progetto stesso quindi il comune non ha voce in capitolo questo è vero è anche vero però che il comune risulta padrone di casa quindi dovrebbe essere il primo a interessarsi il primo a fare pressione il primo a insomma chiedere costantemente lo stato dell'arte dei lavori mentre invece io noto un assoluto disinteresse da parte dell'amministrazione stessa tant'è che sono io in prima persona e privatamente a rivolgermi costantemente al commissario delegato per capire a che punto sono i lavori a che punto dell'iter si trova la pratica che già è in ritardo rispetto a quella che era la tabella di marcia siamo a fine luglio poi ci sarà agosto poi rientro dalle ferie insomma prima di Natale un altro posto non si farà questo è sicuro quindi la pratica che si doveva che doveva avere una forte accelerazione a fine maggio di fatto un passo lo farà forse fra altri due mesi non prima e sempre forse dico l'amministrazione aveva sicuramente il compito e ha la responsabilità devo dire di fare pressione di controllare che i lavori procedessero alla cremente di presentarla come una situazione urgente ed emergenziale per la nostra città di fatto questo è il punto focale che ancora non si è capito perché noi in questa battaglia ci siamo ritrovati da soli senza nella cittadinanza nell'amministrazione quando invece il problema non è solo nostro perché il cantiere c'è oggi quindi io oggi affronto questo problema la città se Dio vuole è eterna e dovrebbe basare tutto il suo futuro sul turismo e su una logica diversa di gestione delle proprie risorse quindi l'interesse a risolvere questa problematica non dovrebbe essere solo mio ma dovrebbe essere prima tutte le attività che sono sul lungo fiume poi di tutti i giovani che un domani possono pensare di investire e dell'amministrazione cioè non è un problema del privato della ditta X ma è un problema che dovrebbe coinvolgere tutta la cittadinanza i pescherecci hanno già difficoltà a entrare in porto già l'ingresso in porto è difficoltoso perché le prime secche si incontrano già all'entrata del porto e poi fino ad arrivare alla nostra darsena di fatto è tutto completamente insabbiato c'è un pescaggio che è veramente ridicolo e irrisorio tant'è che basta affacciarsi in banchina per vedere il fango affiorare non c'è bisogno di scendere a chissà quali profondità c'è un esiguo solco che le barche entrando costantemente nel canale mantengono ma che è preciso e ripeto esiguo per cui se sconfinano di 50 cm da un lato o dall'altro le barche vanno assolutamente ad arenarsi e quali sono problemi grossi perché poi andare a disincagliare un peschereccio di una certa stazza di un certo tipo è un'operazione di non poco conto è disaggevole è pericolosa è fatta a rischio della sicurezza richiede molto tempo va a rovinare lo scafo della barca i motori le prese d'acqua e tutto quindi il problema non è solo nostro che perdiamo tempo nel nostro lavoro ma è anche un problema degli armatori che si trovano in gravi difficoltà con la propria imbarcazione parlava appunto di giovani uno di questi problemi non potrebbe essere il fatto che l'amministrazione si fermi a pensare che comunque dei giovani mazzaresi nessuno meglio la maggior parte se non figli d'arte sono intenzionati ad intraprendere la strada del mare la strada della pesca sì assolutamente ma come dicevo poco fa il mare oggi non deve essere più visto a Mazzara come pesca ma deve essere visto a 360 gradi per tutte le possibilità che il mare offre e in questo senso io penso che diversi giovani sarebbero disposti a investire a metterci la faccia a metterci il proprio impegno anche perché i giovani oggi vanno dove c'è il lavoro e di qualsiasi lavoro si tratti se si può fare a casa propria meglio ancora quindi se oggi ci fosse la possibilità per dire di un centro di canottaggio ma lei pensa che un giovane non ci investirebbe ma il canottaggio per dire ma dove lo sviluppa se ci fosse un fiume navigabile sarebbe per esempio un'idea da prendere in considerazione o una serie di servizi collaterali per gli yacht che possono benissimo attraccare lungo una banchina ma non abbiamo un porticciolo turistico quindi si yacht dove devono attraccare e quali servizi dobbiamo fare sorgere se gli yacht non attraccano cioè è una cosa che si sviluppa veramente a 360 gradi l'ittiturismo ci sono isole le isole minori ci vivono con l'ittiturismo fanno la pesca in notturna io l'ho fatto diverse volte come tantissime altre persone sicuramente si saranno trovate nelle condizioni di usufruire di un servizio del genere parlo di Marettimo di Levanzo famigliana ma anche lì pari stessa che ci vivono famiglie che lo fanno come attività praticamente unica nel senso che ci guadagnano talmente tanto e talmente bene durante il periodo estivo che per loro diventa una risorsa a tutti gli effetti fondamentale per la vita di tutta la famiglia allora un giovane che alla fine deve investire su una barca che probabilmente si trova già di famiglia a lavorare durante le notti durante il pomeriggio dal tramonto in poi con i turisti ma vuole che non lo faccia e che lì devono intervenire l'amministrazione con una serie di servizi a supporto di queste aziende il problema forte che noi riscontriamo è l'assoluta mancanza di appoggio da parte dell'amministrazione non solo comunale ma a tutti i livelli le aziende non hanno nessun tipo di appoggio nel momento in cui c'è una proposta tutto quello che emerge sono le difficoltà a realizzarla a metterla in cantiere di fatto non c'è appoggio non c'è supporto da parte né dell'amministrazione né dei politici niente non c'è